Ah, Loissa vi fa ragione. Si beffano di me appena volto le spalle. Sono come dei lupi assatanati. Ehi amico, ti do una dritta. Stanotte anziché ululare alla luna, grideremo tutti... Kikiriki! Sul serio? Mi pare strano. Cerca di non fare la figura dello scemo. Kikiriki! Che imbranato! Sì, c'è cascata in pieno! Quello è il verso di un gallo, non di un lupo. Ciao papà, hai ululato alla luna? Sta zitto! Perché non sei a letto? Perché non è a letto? Lascialo in pace! Hai ricominciato a bere per caso? Non sono affari tuoi! Io non lo volevo un figlio! Vattene via! Vattene via da qui e non tornare mai più! Ehi amico, uno sballo? Oh santo cielo, Phil! Ciao, Robert. Per la miseria, volevo dirti una cosa. Kikiriki! Kikiriki è un progetto cui tengo molto e sul quale medito da anni e così quando i griffin mi hanno dato l'opportunità di girarlo ho capito che un solo uomo poteva interpretare Phil il lupo. Glenn Quagmire. Peter mi offrì una birra dal sapore strano. Al risveglio ero vestito da lupo con il rossetto. Pagmire.